cari figli ringraziate con me l'altissimo per la mia presenza con voi gioioso è il mio cuore guardando l'amore e la gioia che avete nel vivere i miei messaggi in molti avete risposto ma aspetto e cerco tutti i cuori addormentati affinché si svegliano dal sonno dell'incredulità avvicinatevi ancora di più figlioli al mio cuore immacolato perché possa guidarvi tutti verso l'eternità grazie per aver risposto alla mia chiamata grazie per aver guardato il video